Andate presto! Avverta la torre di controllo. Potete usare quel palo antincendio. C'è una soffitta di sopra. Dove possiamo nasconderci? Viaggiare di notte. Eh, sapete, è troppo pericoloso. Fuori città, in una piantagione di patate. Domattina sarete condotti. Possiamo partire stanotte? Flamont, signorina, di accontentarla. Vedrò... La ringrazio. Ma farò il possibile. Sarà molto difficile incontrarla. Dobbiamo parlare con lo scuro. Signorina Flamont, molto lieto di conoscerla. Così lei è Hillary Flamont. Ma mi ha detto che lei dovrebbe avere un libro di poesie svedesi di Van Bresen. Non conosco nessun dottor Flamont. Mi dispiace, io... Mio padre, il dottor Paul Flamont. In che posto esservi utile? L'inizio è che qui però a te ha la tratta di belina. E, perché è vero? L'inizio è che... E, perché... Si, io...